buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo ancora una volta di gps aggiornamento delle relatorie per le supplenze 2024 2026 tempi stretti ed arrivano anche altre novità prima domanda cosa sta succedendo rispetto i tempi della procedura di presentazione la domanda di aggiornamento delle gps 2024 2026 allora le ultime novità portate nella bozza dell'ordinanza ministeriale aggiornamento gps 2024 2026 che per la terza volta viene presentata ai sindacati dovranno passare al vaglio del csp che comunque non impiegherà meno di 7 o 10 giorni per dare un suo parere quindi le domande non potranno essere presentate prima del 15 maggio e si presume che la scadenza non potrà avvenire prima del 5 di giugno 2024 per cui bene che vada siamo già in ritardo di almeno una settimana rispetto all'aggiornamento delle gps del 2022 2024 per cui i tempi diventano stretti direi molto stretti per diciamo poter fare un sereno avvio di nuovo anno scolastico domanda numero due quali sono state le novità dell'ultima bozza di ordinanza ministeriale per l'aggiornamento delle gps 2024 2026 allora le novità sono diciamo è una principalmente la novità la novità è quella per cui possono inserirsi in prima fascia delle gps con riserva gli aspiranti che dichiarano di voler conseguire l'abilitazione per la classe di concorso specifica anche se non ancora non hanno fatto neanche l'istanza anche se non c'è stata la possibilità perché non ci sono stati bandi ma comunque dovranno sciogliere la riserva di aver presentato almeno l'istanza entro il 30 giugno 2024 con appunto l'attestazione di essere iscritti al percorso abilitante e ma c'è di più costoro potranno nel frattempo che si abilitano ottenere contratti di supplenza con clausola risolutiva perché sono in prima fascia non avendo ancora conseguito il titolo e dovranno comunque abilitarsi entrino oltre il termine dell'anno accademico 2023 2024 per cui entra in campo questa nuova categoria di docenti aspiranti che potranno inserirsi con riserva in prima fascia già c'erano precedentemente coloro che stanno completando il tfa sostegno l'ottavo ciclo e quindi si potranno inserire in prima fascia sostegno e poi sciogliere la riserva una volta ottenuto il titolo entro il 30 di giugno 2024 e la stessa cosa poteva valere per coloro che si stanno laureando in scienze della formazione primaria e lo faranno entro il 30 di giugno e quindi potranno sciogliere la riserva entro il 30 di giugno e nel frattempo inserirsi con riserva in prima fascia. Andiamo alla terza domanda appunto che è riferita al laurea in scienze della formazione primaria. Mi laureerò il prossimo luglio 2024 in scienze della formazione primaria potrò inserirmi con riserve in prima fascia gps per la classe di concorso e e e e cioè scuola primaria e sciogliere la riserva dopo aver conseguito la laurea? Diciamo che nelle bozze dell'ordinanza ministeriale per l'aggiornamento delle gps c'è scritto che la riserva si potrà sciogliere entro e non oltre il 30 di giugno 2024 per cui stando così le cose chi si laureerà dopo il 30 di giugno dunque a luglio del 2024 non potrà inserirsi in prima fascia gps per la scuola primaria ma potrà inserirsi solamente nella seconda fascia avendo sicuramente il titolo perché è prossimo alla laurea dunque ha sicuramente i 150 cfu utili per inserirsi. Insomma questa situazione delle gps si sta trascinando ormai da più di un mese queste questa ordinanza sarebbe dovuto uscire prima di pasqua e adesso siamo quasi alla chiusura dell'anno scolastico e ancora non c'è una data precisa di quando si potranno presentare le istanze di questa importantissima procedura. Seguiteci sui nostri canali social su facebook su youtube le nostre dirette su questo argomento ma anche su tanti altri argomenti che in questo periodo particolarmente importante ci saranno da discutere e affrontare e seguiteci anche nel nostro sito www.tecnica.scuola.it perché faremo articoli su argomenti delle gps ma anche argomenti che riguardano personaleata la mobilità e tanto altro ancora compresi tutti i concorsi e percorsi abilitanti che si stanno per attivare arrivederci e alla prossima